Fermate lì. Prima di farti entrare a Riften, devi pagare la tassa d'ingresso. Per il privilegio di entrare nella città, qual è il problema? Va bene, abbassa la voce. Ti farò entrare. Fammi aprire la porta. La porta è aperta, puoi entrare quando te la segui. Sede della... Ho avuto un'altra discussione con la gitta dei ladri. Non ti conosco. Sei a Riften in cerca di guari. Risposta sbagliata. L'ultima cosa di cui i rovo nero hanno bisogno è qualche pianta grane che cerca di rubar loro la scena. I rovo nero controllano Riften. Hanno le spalle protette dalla città dei ladri, dunque ti consiglio di non ficcare il naso nei loro affari. Io... Ti chiamo Mori. Ti chiamo Mori. Ti chiamo Mori, sorveglio le strade per loro. Se hai bisogno di pettegolezzi su chiunque sono la persona giusta, ma ti costerà. Sei più stupido di quanto sempre. Ma resti meglio a guardarti le spalle qui in giro. Sto iniziando a stancarmi delle risposte. Quando hai preso in prestito il denaro, dicevi... Tutte quelle monete e neanche un giorno di onesto lavoro in tutta la tua vita, vero ragazzo? Ah, vuoi formazioni gratuite, eh? Prima aiutami con gli affari. Poi vedremo come aiutarti. E poi mi sembra che tu sia un po' a corto di monete. Ho ragione. Rinunciare a un'occasione d'oro è peggio. Ho un piccolo incarico da sbrigare. Ma due mani in più mi farebbero comodo. E per come lavoro io, le mani in più vengono pagate. Semplice. Io creerò un diversivo e tu ruberai l'anello d'argento di Madesi da un forziere sotto il suo chiosco. Una volta preso, voglio che tu lo metta in tasca a Branshae senza farti scoprire. al tempio e ci lasci peccare tutti in pace. Qualcuno vuole toglierlo definitivamente dal giro. Non ti serve sapere altro. Sarò al mercato tutto il giorno, dalle otto di mattina alle otto di sera. Vieni a trovarmi, se ancora te la senti. Domattina sarò al mercato. Farai meglio a esserci anche tu. Cosa posso portarti? Ma certo, è tua per un giorno. Vieni, ti mostro la tua stanza, da questa parte. Non ho nulla da spartire con te, quindi vattene. Fammi sapere se hai bisogno d'altro. Il mio cibo è il migliore di Skyrim. Perfettamente fresco. Fatevi ricrescere un arto mancante. Il mio autentico elisir di sangue di Falmer. Bene, ragazzo. Pronto a guadagnare? Bene. Aspetta che crei il diversivo. E poi fammi vedere che sai fare. Venite, venite tutti qui. Ho qualcosa di incredibile da mostrarvi che richiede la vostra attenzione. Aprite bene le orecchie. Venite tutti! Avanti, Briniut. Cosa c'è stavolta? Porta pazienza, Bransheil. Questa è un'occasione rara. Voglio che tu la perdi. Avevi detto la stessa cosa per l'essenza di Fuoco Fatuo, che in realtà era radice di Mirna tritata e unita con l'acqua. Quella volta si è trattato solo di un malinteso, ma stavolta sono sicuro. Signore e signori, lasciate che vi presenti l'elisir di sangue di Falmer. Non appena avrò finito, sarò più che felice di vendervi un'elisir. Proprio loro, creature leggendari. Conoscitori di una grande magia. Immagina quale potere doveva scorrere. Prende le nuove vene. Come li fai? A entrare in possesso di quell'oggetto. Erano anni che non se ne vedeva più uno. Non posso rivelarti le mie fondi... Se per caso passi dal mercato, ho una bancarella che vende merci speciali provenienti da morto. Un sorso di... Fa' attenzione, Luca Strada. ...e ogni tuo desiderio sarà esaudito. Pensa. Presti chiedere immense ricchezze. L'immortalità. Vedo che il mio tempo è scaduto. Serve qualcosa? Pare che abbia scelto la persona giusta per questo incarico. Ed ecco il tuo pagamento. Come promesso. Per come vanno le cose qui, è un sollievo. Che tutto sia proceduto secondo i piani. Senza grossi intoppi. Ah, ultimamente la mia organizzazione non navica in buone acque. Ma immagino sia così che funzioni. Ma non preoccuparti. Hai fatto un buon lavoro. Come se non bastasse, c'è ancora molto da fare. Se credi di esserne in grado. Carne e prodotti freschi. Compra qualcosa prima che finisca tutto. Va bene, allora. Vediamo che sai fare. Il gruppo che rappresento ha la sua residenza nel Rathway, sotto Riften. Una taverna chiamata Caraffa Logora. Arrivaci senza morire. E vedremo cosa sei in grado di fare davvero. Cosa sono tutte queste domande? Va bene, avanti, chiedi pure. Già, scommetto che lo conosco. Si nasconde nell'enclave del Rathway e ci paga profumatamente per stare zitti. Torna quando avrai un po' più di fegato. Svuota le tasche. Sappiamo che c'è bene. Carne e prodotti freschi. Che cosa ho io? Che stai...